Perché noi qui abbiamo l'orgoglio di essere tutti albesi. Essere albesi è un valore grande, è una fortuna che ti capita, perché noi non scegliamo dove nascere. La natura, Dio, ci ha fatto nascere qui. E io credo che quello che noi viviamo questa sera è un momento storico della vita della nostra città, ma anche della vita di ciascuno di noi. E che rappresenta davvero quella che è l'anima di noi albesi, ma in generale di noi langhetti. Siamo qui per inaugurare questa nuova piazza che è completamente diversa. Siamo qui per inaugurare questa scultura realizzata dal maestro Berluti che ringrazio. Ha fatto un lavoro straordinario, con tanta passione, tanto cuore. Grazie Valerio per il lavoro che veramente hai fatto. Ha fatto un grandissimo lavoro, un applauso. Una scultura si chiama Alba. È una cosa che mi rende orgoglioso e pieno di gioia. Sono emozionato come una bestia. Veramente, di solito non mi emoziono mai, ma in questo caso sono molto emozionato. Sono stato felice di essere stato incaricato di realizzare quest'opera a cui ho dedicato più o meno tre anni della mia vita. Essendo io di Alba ho cercato di fare non il 100%, ma il 2000%, per fare un'opera che sopravviva a me, sopravviva alle generazioni e che rappresenti quello che siamo oggi anche tra centinaia di anni, come facevano i romani, come è giusto che ogni artista possa fare per perpetuare la propria memoria e per perpetuare la memoria della propria gente. Grazie a tutti. Grazie.